buongiorno a voi ragazzi buongiorno qui dal vostro bio e da tuta shotgaming e benvenuti in questo video dove vi spiegherò che cosa è successo durante quest'ultimo anno e mezzo anno e mezzo su facebook dopo la sigla eccomi qua ragazzi come avrete capito si parla di facebook si parla di quello che nel personale mi è successo andiamo ritroso torniamo allo scorso alla scorsa milan games week che io ho partecipato inizialmente come diciamo esterno cioè era andato per divertirmi poi ho beccato il team del lexus gaming di padova nella fattispecie ho beccato trig link i due grandissimi fratelli e il loro team i quali mi hanno detto ci servi come per fare delle foto fare dei video eccetera cosa che ho fatto sono andato mi sono divertito è stata una bella esperienza cosa è successo in questo in quel in quei giorni l'ultimo giorno alla fase finale verso le sette di sera dopo essere dopo che fu annunciata la chiusura della milan games week ci fu un furto un furto ai danni di chi msi a capo informatica e gamestop furto il quale mi ha visto coinvolto direttamente e in quale modo mi ha visto coinvolto direttamente non preoccupatevi non ho rubato nulla molti voi lo sapranno già visto che molto direttamente perché all'uscita milan games week ho beccato i ladri come direte voi molto semplice li ho beccati in questo modo ho visto che si stavano questi qua stavano vantandosi di aver preso questi computer eccetera in un modo un po strano sono intervenuto detto a bel con bellissimo portatile complimenti fascia alta bla bla mi hanno chiesto quanto vale effettivamente e mi hanno sparato poi una cifra di con cui l'hanno comprato che mi sembrava un po assurda però magari ci stava non avevo riconosciuto subito i portatili e non avevo riconosciuti subito quindi questo è un punto altro punto dopo pochi minuti di chiacchiere mi hanno detto possiamo allora mi hanno chiesto se ero dello staff e torano sono qui per fare foto video bla bla sono come voi uno qua che si è voluto divertire e allora ho detto bello te lo possiamo dire li abbiamo appena rubati allo stand di msi casco dai nuve non ci ho creduto perché ho detto mai più che lo vanno a dire a uno qualsiasi beccato a caso mai più che lo dicano a uno a caso così e invece guardo meglio le scatole e cosa scopro scopro ragazzi che erano i computer portateli nuova serie che è uscita poi prima di quest'anno e niente salta fuori che avevano proprio rubati perché non erano in vendita c'erano c'erano due ed erano da esposizione da testa non erano in vendita al che capisco che non stavano mentendo e subito mi viene un istinto quello di fermarli ma fortunatamente non li ho dato ascolto perché perché ragazzi erano in sette erano in sette e ho detto anche se mi sono detto anche sono grande grosso e forte e anche se sicuramente riuscirei se fossero solo in un paio due o tre riuscirei ad avere ragione di loro ciò non toglie che potrebbero essere armati potrebbero avere un taglierino potrebbero avere potrebbero darmi un computer a tre chili e mezzo in testa in faccia e potrebbero comunque farmi del male al che ho fatto delle foto riprendendoli sul fianco in modo che si vedessero bene i portateli e la sigla dei portateli quando stavo per fare un video per riprendere anche loro dove ringraziavo i miei voi ringrazia voi che mi seguite su facebook su youtube eccetera hanno mangiato la foglia e se la son telata ho addirittura cercato di inseguirli ma immaginate un essere alto 1,87 130 kg di peso con più o meno 30 30 40 kg di roba addosso tra attrezzatura audio video e i vari gadget che cose che ho comprato per la famiglia qualche amico correre come correre al presso dei ragazzini di 18 20 anni alti un metro 75 magri come un chiodo non ci sono riuscito tornando indietro tornando indietro per avvisare msi a capo informatica eccetera e beccai i butafuori cioè i guardiani della game stop e qui c'è da ridere molto da ridere questi qui io li fermai di sì voi siete delle guardie sì siamo le guardie della game stop allora fuori rincorreti sono dei ladri che hanno rubato agli standi a capo informatica msi stanno fuggendo sono andati verso la metropolitana fate ancora in tempo a raggiungere a fermarli sti qua mi guardano mi fanno ma noi siamo di game stop non c'entriamo nulla con loro sono affari loro al che non ho protestato in quel momento ma la mia voglia era quella di dirgli beh non è andata scusate family friendly ma porca puzzola venosa e niente sono corso all'interno sono andato dal mio amico michael calegari di msi poi sono andato da alessio cicolari di a capo informatica gli ho detto ragazzi vi hanno rubato dei portatili e del materiale fa sì appena adesso che ce ne siamo accorti adesso come fa a saperlo ho beccato i ladri fuori ho fatto delle foto ho dato loro le foto e lì è cominciato il mio calvario calvario che è partito la sera stessa per colpa di a capo informatica sono stati infortunati perché io sono una persona buona sono una persona gentile e io ho molto parato il culo le foto erano fatte senza all'esterno della games week cioè nella parte esterna quindi una parte protetta dove loro avrebbero potuto dire ha violato la nostra privacy e anche se ha cercato di sventare un furto ha violato la nostra privacy lo denunciamo io ho dato le foto a capo informatica e msi per e ho firmato anche io anch'io contribuito a riconoscimento dei ladri alle denunce eccetera questo è un po' diciamo segnato la mia vita all'interno di facebook adesso vi spiego i motivi il post che creò a capo informatica non fu nulla di che nel senso che hanno questo posto con le due foto che avevo proprio fatto io procurato io dove c'erano i due ladri di profilo e in bella vista le scatole dei portatili che non erano in vendita erano portati di esposizione quindi erano stati sicuramente rubati al che nel post hanno messo il mio nome e il mio cognome senza la mia autorizzazione li ho autorizzati successivamente perché ho capito il motivo per cui l'hanno fatto e allora ho detto ma sì va bene d'accordo va bene così nel post fui preso di mira fu bombardato di insulti minacce di chi più ne ha più ne mette ragazzi una cosa vergognosa vergognosa perché siamo arrivati sono arrivati a un punto veramente 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 basso alcuni di questi qua che mi hanno pubblicamente minacciato sul post hanno creato degli account fake cancellati il secondo dopo mandandomi dei messaggi private che io ho segnalato a facebook come facebook poi vi dico la risposta minacciandomi di morte minacciando di morte me la mia famiglia mio figlio mia moglie tutti insomma al che io ho segnalato a facebook questa cosa e facebook cosa mi ha risposto non possiamo farci nulla perché sono account cancellati subito dopo e non possiamo risalire a chi ha scritto non possiamo fare niente possiamo grazie per la segnalazione ma tanto te la piglia il culo al che io ho scritto a facebook vorrei farvelo leggere mai sul vecchio account e ho cancellato tutto quanto io ho scritto a facebook ma non potete fare un trek in p tracciare l'ip scoprire di chi sono perché mi hanno minacciato di morte mi hanno minacciato di violenza la mia famiglia cioè non non possiamo fare niente non è la nostra politica va bene e qui arriva il bello ragazzi qualche sette un paio di settimane dopo mi vedo l'account bloccato per 45 giorni e perché per una foto senza commenti che avevo messo di satira su salvini e la politica italiana questa foto ritraeva salvini vicino alla ruspa che diceva ad italiani adesso basta il momento di fare pulizia se aprivi la foto scorrevi in basso un po non tanto la foto era grande così sullo schermo sotto c'erano c'erano la stessa ruspa con degli zingari sopra che dicevano sì capo salvini ci dica dove iniziare a radere al suolo le case italiani e sotto una nota non mi ricordo cosa c'era scritto ma era comunque una cosa di satira creata da uno che fa satira su facebook sui social bene questa foto ricevete più di 100 rotte segnalazioni per istigazione al razzismo l'account bloccato per 45 giorni ho fatto ricorso in più modi non c'è stato modo ho dovuto crearmi un altro account quello che ho conosciuto tutti quanti anche perché mi è stato detto da una persona fidatissima che il mio account vero principale è sotto inchiesta tuttora non so se è ancora sotto inchiesta per per istigazione del razzi al razzismo e propaganda propaganda nazi fascista razzista vabbè chi mi conosce sa andiamo avanti adesso arriviamo al punto al punto della situazione di questo momento facebook mi ha bloccato l'account per 24 ore perché mi ha bloccato l'account per 24 ore perché ho condiviso un'altra immagine di satira stavolta commentando l'immagine ritraeva una scena che quella del lancio delle uova ai danni di alcuni cittadini italiani e della povera atleta di colore negra poverina lei comunque no scusate veramente ho condannato quel gesto in tutti i modi su facebook tutti quanti sanno che io sono contrario a queste cose però è veramente 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 una cosa assurda adesso vi faccio leggere tutto quanto un attimo ecco qua qui io condiviso mettendo questa questo commento l'immagine completa era prima la prima due anziani che dicevano uno diceva a me prima ma tirato le uova a me sulla mia casa con la moglie diceva ma tu non conti un cazzo è inutile che tiramenti sotto c'erano le altre italiane donne colpite tutte tutte bianche colpite dalle uova e nessuno che le cagava e sotto poi c'era l'immagine di desi osau che con tutti quanti che le intervistavano è stato un attacco razzista salvini brava la colpa di salvini brava e sotto ancora c'era l'immagine della ragazza violentata uccisa e fatta a pezzi con un solo giornalista che chiedeva proprio a lei di sbrigarsi a raccontare i fatti come avete letto non ho fatto nulla di razzista non ho come dato niente io ho sempre detto che utilizzo della terminologia negro come nel senso etimologico della parola perché negro è l'abbrevazione di negroide ed è la parola che identifica tutti i componenti tutte le varie etnie presenti nell'africa è come se noi europei ci sentissimo offesi se qualcuno ci dice ci dicesse caucasico che vuol dire abitati nel caucaso di una parte dell'europa o che i cinesi i mongoli giapponesi eccetera li sentissero offesi se venissero chiamati asiatici o gialli viene chiamato giallo perché ha la pelle di colore giallastro olivastro non vedo il motivo per cui uno deve sentirsi offeso per essere chiamato con la parola etimologica identificazione identificativa della sua etnia perché ricordiamoci siamo tutti quanti la razza umana ma la razza umana come la razza animale siamo sfaccettata da varie etnie cioè la nostra etnia che è caratterizzata da capelli bianchi da quello della pelle bianca capelli tendenzialmente più chiari degli altri poi c'è l'etnia negroide che è caratterizzata da quello della pelle più scura ok i tratti somatici più simili a quelli antropomorfe delle scime antropomorfe non è colpa nostra se è così e naso leggermente più grosso i capelli più crespi e neri poi c'è quella asiatica che caratterizzate sono i tre grossi gruppi etnici dell'essere umano quella asiatica è caratterizzata da una statura più bassa capelli più sottili occhi leggermente stirati a mandorla e una pelle leggermente più sbiancata sul giallonio lo diciamo questo è sono le nostre tre diciamo etnie di appartenenza è la caratterizzazione della mia etnia perché un africano deve sentirsi offeso per per essere chiamato negroide o negro non lo capisco disprezzo profondamente l'utilizzo offensivo di quella parola sporco negro negro di merda bastardo disprezzo profondamente questo uso mal mal questo uso malvagio chiamiamolo così uso offensivo di una parola che di offensivo non dovrebbe non ha nulla e l'ho sempre condannato io non ho mai ragazzi fatto segreto dei miei colori politici io sono di destra e sono contro l'attuale immigrazione non contro l'immigrazione ma l'attuale immigrazione e questo non è mai stato un segreto l'ho sempre sbandierato l'ho sempre detto non ho mai avuto problemi io credo che mi toccherà fare un esposto tramite l'avvocato a facebook e sospetto le 24 ore che serviranno per vedere se qualcuno guarderà bene quel post perché vi spiego una cosa di facebook facebook non vede le segnalazioni personalmente o meglio non c'è una persona fisica un essere umano fisico che sta lì a controllare le segnalazioni non c'è un essere umano fisico è un algoritmo matematico all'interno di un programma perché tu segnali quell'algoritmo vede la segnalazione controlla le parole all'interno le parole sono per questo in questo caso razzismo negra e bianche e bianca queste sono le tre parole che hanno preso in esame e mi hanno bloccato l'account 24 ore quando tu fai una richiesta di revisione la revisione dura nel periodo che tu sei bannato se ci mettono quel periodo lì per revisionare e chi lo fa un essere umano per cui funziona così prima un programma ti banna l'account perché tu hai utilizzato delle parole e secondo la segnalazione che ti hanno fatto le utilizzate in modo dispregiativo in modo malvagio poi tu fai una richiesta di revisione un essere umano prende in esame la tua richiesta di revisione nella maggior parte dei casi se l'essere umano ha un po di cervello la revisione va a buon fine il posto non viene rimosso e ti chiedono anche scusa mi è successo poco tempo fa vi faccio vedere ecco qua mi è successo il 23 luglio ho richiesto un controllo e siamo spiacenti per la confusione abbiamo esaminato normalmente la tua foto la tua foto abbiamo stabilito che rispecchia rispetto ai nostri standard della community per cui è così vi consiglio sempre di chiedere revisioni nel caso di posto rimossi perché perché dici detto questo ragazzi concludo con una sola cosa viviamo nell'era della informazione disinformazione globale globalizzata viviamo nell'era dove è impossibile non farsi gli affari degli altri ed è impossibile essere effettivamente protetti dalla privacy viviamo nell'era in cui in un'era in cui a tutti è concesso dire la propria a tutti è concesso dire a b bo ma mi ma e a tutti è concesso esprimere una propria opinione anche a coloro di che non hanno capacità deduttiva capacità intellettuale adeguata per poter capire determinate situazioni determinati cose determinati concetti discorsi e questo non non c'è nulla di male gli stupidi sono sempre esistiti gli imbecilli sono sempre esistiti ed è giusto così io stesso sono molto spesso un imbecille riguardo determinati argomenti che magari non conosco bene però generalmente non disloquisco troppo su cose che non conosco o di cui non sono certo questa è una grande epoca però a un punto un punto molto 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 basso questo punto è l'incapacità di capire determinate cose c'è libertà di espressione di parola scritta e verbale e c'è libertà di credo politico religioso e personale quando tu non sei libero di esprimere il tuo credo politico religioso in un social in un giornale alla luce del giorno per paura di ritorsioni da parte di chi non capisce di ritorsioni da parte di altri che per ignoranza o per non so qualsiasi altro motivo non vogliono mettersi nell'ordine di dei di ragionare su delle sulle cose allora lì si va a lidere la libertà altrui c'è libertà finché non finché la libera la tua libertà e la libertà di altri non le dono la libertà altrui e la tua stessa libertà ok scusate ragazzi ho divagato a un certo punto però il discorso che discorso è questo mi è stata per l'ennesima volta eh lesa la mia libertà individuale libertà di espressione libertà di credo libertà di parola eh libertà garantita costituzionalmente e da chi mi è stata lesa da facebook e da degli imbecilli teste di cazzo che non siete altro voi che segnalate queste stupidate queste stronzate invece che segnalarvi il cervello eh voi state ledendo la mia libertà state attenti questo è un avviso state attenti che io noi siamo buoni dolci gentili ma tra un po' ci stufiamo e noi non io non sono un leone la tastiera io una cosa che dico la faccio ditemi venite in fronte a me a dirmi le vostre ragioni a discutere con me apertamente civilmente e in modo normale discutiamo dei vostri punti e dei miei punti discutiamo di tutto ragazzi io sono aperto le discussioni ma queste cose qua è una vigliaccata è una vigliaccata segnalare una stupidata come questa e non segnalare pagine come eh siamo tutti migranti o l'islam a casa nostra ragazzi quelle pagine sono sono terroriste perché incitano alla violenza da parte dei migranti nei nostri confronti incitano alla sciaria nei nostri confronti incitano l'immigrante a violentare le donne italiane eh uccidere gli uomini e chiunque non voglia convertirsi andate a leggere qualche post di siamo tutti migranti o di l'islam in italia eccetera 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 cercate su facebook queste pagine e vedete i loro post sono terroristici eppure queste pagine questi gruppi non vengono bloccati non vengono chiusi non vengono segnalati perché bella domanda a voi le risposte ragazzi lasciate like se vi è piaciuto quello che ho detto e se condividete il mio il mio pensiero se non lo condividete uguale mettete un dislike e discutiamone scrivete sotto qui nelle discussioni nelle risposte scrivetemi un messaggio e io discuto apertamente con voi creerò anche a breve su youtube una irl hangout una live dove parlerò di questi argomenti venite a parlare con me ma parliamone senza urlarci in faccia senza prevaricare parliamone liberamente apertamente e con la mano sul cuore e la coscienza a posto questo è tutto ragazzi vi voglio bene ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti